come si chiama? Maranza Maranza, poi andiamo con la disco facciamo vedere al pubblico a casa che sapete ballare, non la tarratella ma la tarratella a disco, perché noi siamo di quelli duri vai, dai che ce la facciamo dai, dai musica 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 A presto A presto A presto A presto A presto A presto A presto